Giorgio ricordi quando eravamo nel banco insieme al corso di informatica Tu eri molto bravo, io invece non lo ero e nei compiti in classe io copiavo da te Giorgio ricordi quando hai dovuto lasciare la scuola e il corso di informatica Tu dovevi lavorare e dare una mano ai tuoi, io invece che potevo ho continuato gli studi Giorgio ma è vero che oltre al tuo lavoro la sera però ti ti occupi di informatica Tu pensa che io ho finito e mi sono laureato eppure un grande handicap Io non ci capisco niente Grazie